Ciao a tutti, sto facendo questo video per fronte a farlo, che è una persona esquisita e persona con maiusa, non ci restate più. Un saluto a tutti i colori che lo servono e a chi ascolta la sua radio. Un altro saluto invece a tutti gli ammalati, i carcinati e a tutti i commaglioni. Un saluto a tutti i colori che lo servono, non ci restate più a chi si chiama? Un saluto a tutti i colori che lo servono e a chi che lo servono, non ci restate più a chi の Signore. La città già sta dormendo, e sti lampino ginevano nel rindo scuro, un compagno sulla luna, inizia a stare a città. Come a me quando voglio, lo trovare in dei locali, vivare in un bichetto, e si spartano i problemi. Come a me quando voglio, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.